Scammo, dici? Sono le 22 Sta facendo cinema E non mi sta nemmeno guardando Ah no, è qui Che succede? Perché fa così? Perché fa così? Perché fa così? Che ha? Ma non dovrebbe essere a scuola di cinema Con Victor Laszlo Con Federico Fruscia Dario 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 Vuoi Vuoi fare? Vuoi anticipare? Vuoi anticipare? Vuoi anticipare? Vuoi anticipare? Vuoi anticipare? Vuoi anticipare? Dario, fammi sì con la Fammi sì con la testa No, è che sta facendo così Quindi non può fare sì con la testa Fammi così se vuoi anticipare Fammi così se vuoi anticipare E allora anticipiamo Oh merda Aspetta, dammi un secondino E ragazzi A quanto pare Darione è andato là Stretto Largo Vai E facciamo questa cosa Ciao Ferro Grazie per il nono mese Allora Aspetta un attimo Bam Bim Boom Cosa dovrebbero anticipare? Stupeddu C***o Seranto Stupeddu C***o Dobbiamo anticipare Ciao Yashal Grazie per il terzo mese Aspetta, da Pronto Su Discord c'è quello sbagliato C'è il microfono sbagliato su Discord Credo di sì Ti sentivo strano No, no, no Ci sono C***o Non mi fare in c***o Non ho fatto un c***o Darione Non c'è bisogno di comportarsi in questa maniera Arrivo Sì vabbè ma io non c'entro niente Quindi al massimo posso fare l'amico Che ti supporta Se hai avuto qualcosa che non va Già si lamentavano È troppo alto È troppo basso Eccetera Allora guarda Marco mi ha dato buca Cinema Cult Non mi Aaaaa Era una cosa che potevi continuare a parlare Ti facevo il sottofondo Allora Marco non credo Poi non è andato il programma Per Cinema Cult Perché mi laggava Non so perché Poi ho la colla Della Tamiglia Non funziona Va bene Cosa non funziona La colla della Tamiglia La colla della Tamiglia Non funziona Sì Nel culo se lo piglia Hai raccontato come è andato il pub? Sì sì Ho raccontato Non proprio nello specifico Che hai detto? Che ho detto? Che mi sono divertito Che è stato bello Cioè adesso che ti devo fare L'interrogazione Non mi ricordo quello che ho detto L'interrogazione? Non mi ricordo Cioè ho raccontato Mi sono divertito Di qua e di là Tanti bravi ragazzi Tanta gente Soprattutto Un bellissimo roster Sia per qualità Di forma Delle persone Sia del fatto Che ci volevamo tutti bene È stato bello anche Il pranzo dopo Quello che hanno detto Durante all'inizio Soprattutto alla fine Trasudava Trasudava amicizia Da tutti i pori Trasudava anche Io 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 A posto? Sì sì Vai dimmi No dicevo che anche Il pubblico Era incredibilmente contento E affettuoso Era un bellissimo pubblico Non solo perché Contrariamente a Villa Ada Dove entravano tutti quelli Che avevano problemi E volevano fare casino Visto che il biglietto Era gratuito E quindi Il pub dell'amico live Con le salvetti Costava un biglietto E quindi abbiamo scremato Le persone che volevano divertirsi Con Soltanto le persone Che volevano divertirsi Insieme a tutti Gli altri E Perfaccia Va bene Dai ci sentiamo La prossima volta Dario Devo andare a commentare Il Napoli calcio No dai Questa buttata Pesantissima Tranquillo Darione Allora Marco Che da buca È veramente La prassi Due volte Per questa cosa Ah minchia Sarà contento E viva il football Cioè squilibrista Sarà contento Che scrive Che dovrà scrivere Per la terza volta Tierlist Odori Che c***o sta succedendo Ci siamo Com'è andata Com'è andata la giornata A Ponte Della Rientra a Ponte Della È stato traumatico Com'è stato scusami Traumatico Traumatico No non è stato traumatico Anzi non vedevo la c***o Ora di sedermi C***o Lo sai Sono stato una settimana In viaggio Ho fatto otto città In dieci giorni Porca t***o Sono andato di qua E di là È stato bellissimo Tornare a casa Finalmente Fermati No ti dicevo Sembrava che stessi Tirando fuori il c***o Una forza tra l'altro Rancorosissima E che adesso Ti chiedo soltanto una cosa Non vorrei che adesso Fossi io a pagare Del fatto che tanti altri Ti hanno dato buca Le cose sono andate bene Cioè vorrei che Il nostro momento Non fosse No Io non sono la valvola Di sfogo Della giornata Che finisce Oh ma Verstappen Che c***o me ne frega Di Verstappen Ti sei ricordato una cosa A caso di cui abbiamo parlato A pranzo L'altro giorno Bro Ok non mi piacciono i motori Quindi potevi parlare Anche di calcio De Rossi è espulso Ragazzi Sì 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 Quando è stato espulso De Rossi in diretta Ha fatto E adesso sì Che l'ha buttata De fori E ho pensato Vabbè Di fori Scusami Poi ha segnato E ha pareggiato La squadra che giocava Contro la Roma Non mi ricordo Gianmarco è morto Gianmarco è morto Anzi si vedeva Che si stava impegnando A fare il ragazzo educato Che non se la prendeva Del fatto che la Roma Gli avessero pareggiato La partita al 94esimo È stato molto bravo È stato bravo Anch'io adesso Sono stato rispettoso Non ho detto niente Sì sì Sai anche che è stato rispettoso Tutti i ragazzi del pub Perché io Visto che dovevo fare la cacca Stavo un po' male Comunque avevo voglia Di tornare a casa Purtroppo per la fretta Non ho salutato tutti E io da ragazzo educato Ho scritto a tutti quelli Che non ho salutato Scusa che me ne sono andato Non me ne sono reso conto E l'ho preso dalla fretta Sai in quanto mi hanno risposto Dario? No Nessuno mi ha risposto Non mi ha risposto nessuno Però hai visto come erano coesi Sotto il palco No no minchia Sì sì È stata una vera chat quella Tranne quel rincoglionista Con quella mania di protagonismo In mani Che ha preso il microfono Voleva parlare di quell'aneddoto Scavalcando la cosa Accanto a te Claudio che parlava E lui faceva Claudio 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 Perché voleva parlare lui Non Claudio di Biaggio Voleva parlare lui Tra l'altro mi hanno detto Dietro le quinte Che lui era prontissimo A fare sta cosa Gli ha detto al suo amico Vieni Manco fosse un cane Ma chi era? Chi era in primis? Non ti ricordi il ragazzo Quello là Che faceva Scusami Mario No 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 Il ragazzo che è andato oltre No 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 Mario No Mario Che aveva la maglietta Aspetta Mario 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 Hai detto a me Hai detto Mi hai fatto il culo per la L E poi hai detto ragazzol però Vabbè sì Prima di tutto Non ti ho fatto alcun culo Poi ho detto ragazzo Sai cosa potremmo fare ora Mario Che ti piace Sono cagato addosso Ad caso Dimmi 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 tutto Potremmo fare la reaction Al Talentscout Con Poli Per vedere Allora Dario Dimmi Ti dico Cosa ne penso Va bene Davanti a tu Perché ovviamente La gente si è divertita Tantissimo Dicendo Sai cosa mi ha detto Non mi sono divertito Al Talentscout Di Poli E Dario No 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 Mi hanno detto Hai visto brutto coglione Che Poli ti ha sostituito Al Talentscout Ci godo Finalmente è arrivato il momento Che tu versi qualche lacrima Mi sono arrivati proprio commenti Del genere No Ho visto anche Ma ragione il tizio Sono due Ma mi ascolti quando parlo Sì sì Sto ascoltando Ti sto manifestando Una sofferenza Che ho provato Dimmi 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 Cioè Poli ha pubblicato La puntata di Talentscout Speciale Questa cosa Con tutti i ratti Che seguono Mattia dicendo Ah finalmente Mario fuori No Era una questione provvisoria La cosa nasce dal fatto Che Dario non si ricordava Che non c'ero E quindi ha pubblicato La storia comunque Ha dovuto comunque Confermare Da grande professionista Qual è L'appuntamento No 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 Non è andata proprio così È andata che No no È andata così Io avevo annunciato Già con l'idea Di fare lo scherzo E Poli ha accettato Di farti lo scherzo Capito Era 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 uno scherzo 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 di Dario E di Poli Era uno scherzo Nei miei riguardi Ma non è che è la realtà È uno scherzo Lo stai dicendo a te stesso O al pubblico Non ho capito Lo sto dicendo a me Lo sto dicendo a me Ok ok Oh lo so Che non ti piacciono Queste cose Però penso che Questa Possa essere un'eccezione No aspetta un attimo Prima faccio Aspetta Prima faccio io E poi fai tu Prima faccio io Guarda che cosa ho trovato Tracchete Ok Adesso Dario Facciamo una cosa Perché questa era una trappola Adesso tu ti ricordi No 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 Aspetta un attimo Chiudi quella merda di bocca Tu adesso Tu adesso Ti recuperi il mio VOD Di io che dico Non vedo l'ora Di far vedere Di far vedere Questa carta a Dario Colui che fa così E capirai Che io mi aspettavo Questa cosa E che mi sono già Deluso da solo Un'ora prima di mostrartela Quindi stai tranquillo No e non mi garba molto Vedere un ritaglio Di una tavola di Oda Tra l'altro Ritagliata malissimo Perché dietro c'era Rufi Però no bro Io ti volevo far vedere La peggiore Fammi vedere Questa Allora Io ne ho viste poche Di carte Poi sto avendo A che fare Col Dio delle carte Ragazzi Ve lo ricordate E quindi Di solito Quando uno ti dice Che sei un dio Dici smettila Invece Dio delle carte Ti piace come se fossi Il bambino di Monster Va bene Ehm Questa io non ne ho viste tante Ma questa Penso sia la peggiore Di sempre Bro Questo non è Un ritaglio Del manga Questa Aspetta Il ritaglio dell'anime Bro no È il frame Del videogioco Bro Questo è un frame Questo è un frame Del videogioco Odyssey Io non penso Possa essere legale Una cosa del genere Bro Guarda Guarda che schifo Guarda che schifo Ma come può essere vera Una cosa del genere Una Una merda Cioè Inqualificabile Ma come Cioè Povero albero Mi viene da dire Povero albero Assurdo Eh ho visto prima OP09 A parte la prima paginata Di spoiler Dove ci sono le secret Ove c'è un po' di roba bellina Poi tutto il resto È terrificante Tutta Ci sono delle comuni Che sono Sembrano fatte Dall'intelligenza artificiale Non so Io guarda La cosa più bella Che ho trovato oggi È questo Ben Beckman Ah è quello L'ho vista prima L'ho vista prima No a me è questo Non lo piace molto È un po' strana L'anatomia Cioè quei bracci Mi sembra un po' cortino Poi Perché scusa Spara così Ma tra l'altro Beckman Non è mai in azione Di solito spara Con la sigaretta in bocca Quindi forse Anche questo è un po' È strano Ok ragazzi Ghiastro Puzzong Non si possono dire Da ora Fino alle 5 del mattino Almeno da me Poi Sì 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 Grazie 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 Nessuno è escluso Per questo supporto Al mio grande amico Dario Ragazzi Cosa facciamo oggi Oggi facciamo Andiamo a trovare IRL Iotopia A casa Ok Non penso Non penso che siamo graditi Con delle armi Anche però No Non va bene Cioè Io pensavo Modellini di Froze Cioè Sì Ok Allora Andiamo Dove vive Iotobi A Nucola Grazie Marco Ok Si va A Nucola Da Iotobi A quanto pare Armi di Frolla Sì Di pasta Frolla Niente Del pub Dell'amico Mi hanno detto Che Ieri Io non ci sono stato Ti sei divertito Più so Raccontami tu Che non so Mi sono divertito C'era pure C'era Chi c'era Dei nostri Con te Perché mi hanno detto Che sei salito Sul palco Tu e il Mase Giusto per Ah senti Posso chiederti Una cosa Dimmi È vero che Madame Ha sparato Un sivalletto Sì A 300.000 Decibel Sì E ha sparato Tre volte Il momento gaming Ha fatto anche Il mashup Del momento gaming Con la stazione DJ È un po' È strana Francesca Con me Non riesco a capire Anomala È un po' strana Sì sì È un po' fissata Con queste cose Tutti i fan di Deandre Sono strani Ancora Con questa storia Io amo Deandre Sono tutti strani Sì Ogni volta che parto In Giappone Potrebbe essere La mia morte Capito No 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 Dario Non hai paura Dell'aereo Tu sicuramente Ci mancherai tanto Ma senti Ma all'inter Hai un po' Con questo Giappone Perché Stai veramente Buttando dei fori No Sono tre viaggi L'anno Come sempre Ah vero Mi sembra Ieri Che tu abbia fatto Il penultimo No È luglio Ah luglio Vero Vero L'hai fatto a luglio Vero L'hai fatto a luglio Vero Sì basta L'ho fatto marzo Luglio Settembre Sarà di nuovo La stessa versione Cioè te Che vai con persone Che non conosci E conoscerai Là Dario Ok Sì 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 No pensavo Che avessi avuto Un mancamento E No sono contento Mi mancherai tanto Bro ma quando torni E Il 18 Mi pare Non è possibile Sì 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 Non è possibile La signora Parermo Scrive Ma che fine ha fatto In linea con Mario Last Mario Lascia che Ti spieghi una cosa Non esistono Queste cose Non esistono Questi format E Dario mi chiama Quando finisce Di lavorare E Lasciando soltanto Un gigantesco Piacere Della Della condivisione Di un amico E del proprio tempo Crea sul momento Una cosa da fare E quindi nasce Talent Scout Professional Time In linea con Mario Muslim Time Asian World E non mi ricordo Quali Che sono semplicemente Dei pretesti Nominali Per fare Il c***o Che gli pare Perché ha finito Con la programmazione E può fare quello Prima di giocare Al videogioco Mi era c***o Con un amico Che probabilmente Regge tutti gli scherzi Che gli fa Tabletop Te lo ricordi Sì me lo ricordo Tabletop bro In linea con Mario Per me è il peggiore Anche perché È quello più spammato Per le richieste Che non ha senso Tra la Sì Toc Toc Chieck Sì 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 Leggendario Fatto una sola volta Stai zitto Ha ragione Dario Cioè non ha detto Un c***o Sto parlando io Di che c***o Ha ragione Professional Time Tra l'altro è l'unico Ah Ehm Normale No dicevo È l'unica Che è riuscita A prendere piede Poi Forse più di Talent Scouter Ah Adesso è diventato L'oggetto di Vegeta Il nostro Momento amichevole No È preso strada È l'unica cosa Che può andare avanti Cioè È essere un pochino Più concreto Perché Talent Scout È una chiamata Fuggiasca Io e Mario Vi annunciamo La nostra presenza La nostra entrata Nella casa Di sette Eccoci No 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 Dario Lascia stare Che poi arriva Grendald Ti chiama Ti dice Vuoi entrare nella casetta E tu dici no E quindi sembreresti Soltanto un grande ipocrita Non abbiamo No no Non serve applaudire ragazzi E Dario non abbiamo Allora La prossima volta Che mi annunci Per qualcosa Che non mi chiedi prima Mi inc*****o Non entreremo Nella casa di sette Anche perché Primo problema È finito Quindi non La casa è vuota No Me lo sono perso Ti vedevo così affranto Dalla ristorazione Di Ciccio Gamer Quella cosa là Si vede che ti interessi Dei tuoi colleghi Comunque bravo Vabbè ma ci sarà Una seconda edizione 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 Non siamo invitati Ma non vuoi andare con Cecchi Paone Corona E Emilio Fede Dentro alla casa Di sette Eh no Questo che sto dicendo Ah ok No no Voglio Grazie Grazie Scania È un'opportunità Fantastica Grazie Non lo metto in dubbio Che possa essere Un'opportunità Grazie a tutti Domenico Grazie Domenico Domenico grande Domenico Sì noi di Santa Cruz Grazie fantastico Domenico grande Spettacolare Domenico È forte L'hai conosciuto L'hai conosciuto Sì 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 Una volta può bastare Grazie L'ho conosciuto Mi sta molto simpatico Domenico Assolutamente sì Guarda che cosa ho qua Guarda Guarda che cosa ho qua Tutti 200 Bellissima Bellissima Molto L'unica cosa Domenico Sto trovando un problema Io bevo il caffè lungo È la macchinetta Inviatami Io devo premerlo Giusto 5 volte Mi fa male la falangetta Perché per fare il caffè lungo Devo impegnarmi tanto Non è che puoi mandarmi Una macchinetta Placcata in oro Per favore No Ho esagerato No oro Dorata volevo dire Dorata Dorata Partite il redeem Che in realtà è Dario Il dito medio Rifiuti l'occasione Della tua vita Ci penso io Mario Che cosa fa Ho dei vostri genitori Fusi insieme In un blob Aborto gigantesco Che poi esplode In mille pezzi Ferendo anche voi Portandovi via insieme Allora Se preferite Hai rielaborato Il mito di Andros Sembrerebbe Bravo Comunque Se vuoi sapere Non preferisce nessuno Qua Penso che tu li abbia Soltanto intimoriti E non gli hai dato Una valida alternativa Nose Club Non esiste Non esiste Alcun club Dei nasi No Assolutamente no Vuoi questa tazza? Bro Fai punto esclamativo Caffè La compri Attenzione Che c***o succede? Compra la tazza Senza E non verrai risucchiato Cosa? Masellata qua Stai attento Che è? Eccolo qua Trasformazione nei genitori Di Tom e Jerry Completata nuovamente Che fai? Ti siedi? Mi metti un po' di ansia In questa maniera Sembra che tu stia Facendo qualcosa Un po' Velo un po' Va bene Va bene Oh ragazzi Vi ringrazio dopo Per gli abbonamenti Che in questo momento Ma che c***o fai? Stai sistemando il keylight Non c'è nient'altro Lassopra Non ho bisogno Di calmarmi Cosa? Sono un coglione Che rido Spawnato il cappello Bello il cappello di Topolino Ce l'ho anche nero È vero Me l'hanno regalato ieri No 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 Ci credo Anche perché Non mi sembra Tanto infattibile Come cosa Bello Hai visto Kasumi che sbusta? A voglia Guarda Ve la rifaccio Anche Ci vuole nulla Ci vuole a me Che sbusta cosa? Ragazzi Stiamo sbustando Crotali fatati Allora Qui c'è Pumbul Bongeld No vabbè Stongul Carina questa È Mifug No Perella Guest E poi Stokombur E Oh Questa sbrillucica Ma vale qualcosa? Non avrò mica trovato Milimbo Scusami Per quale motivo Non sa che è Milimbo Cioè tutte le carte Hanno il nome Scritto sopra Ciao Sara Ciao 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 Cioè comunque A parte l'imitazione di Kasumi Dove è stata ridicolizzata Poi viene salutata Come presidentessa Del consiglio Sara Guroliri Vabbè E certo Ragazzi non salutate Sara Alla stessa maniera Per favore Così sembra Poli Però No Poli a sbustare È diventato bravo Tanto che Per risultare non ipocrita Ha comprato i primi due volumi Di One Piece Che non ha letto Perché ha sbustato E ha trovato Zoro Manga Bastardo Lui Vabbè Basta Quella tavola lì La trovi In un volume di One Ritaglia L'appiccichi su una carta E hai fatto la manga No 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 Non penso che sia Così tanto facile Grazie Grazie Carastig Grazie capo Francesco e Raffo Mario ma Lamincarz come sei messo Io ce le ho tutte Quelle Dei tempi passati Cioè quelle E non volevo interrompere Cercao info Sulla zona narghile Ci sarà la zona narghile Sara Sarà bellissimo Vederti Completamente strafata Sdraiata Sdraiata Mi devi spiegare una cosa Ma perché cerchi sempre Sti narghile Non è la prima Nella seconda Fatti Fa quello che vuole Non è che gli ho detto Che non lo può fare Io dico solamente questo E basta Posso domandare Cioè è una domanda È una domanda Basta C'è risposta Ricarba Non è che gli ho detto Sara adesso Ti prende a schiaffi Stai attenta dove sei Gli ho detto Perché Vumi sempre Perché cerchi sempre I narghile Perché due Un fa tre Farà quello che vuole No Senti Mia nonna Smettila di parlare E fammi chiedere Questa cosa Sara Gurolili Ma poi Non ci si stona Con i narghile È semplicemente Fumo Vapore Ma non c'è nulla Dentro Di pen Ma come Mi permetti Che cosa Era una condizione Ipotetica Non voglio Mica menare Sara Gurolili Non mi permetterei Mai 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 Ho detto Mai Ho semplicemente La lingua E tornata La sua posizione Mi è uscita Una piccola S Sibillina Ma Vabbè Non toccare Gurolili Ma ho detto Un c***o Io Grazie Cigne Grazie Patrizia Grazie Giungi Mamma mia Oh Ma senti Un'altra cosa Ti volevo dire Che sono passato Dai miei agenti immobiliari E a portargli un caffè Che gli voglio bene Ma è successo qualcosa Alla tua macchina Sì Mi hanno rigato la macchina Sapendo che era la tua Penso di sì Sì Mi hanno fatto tutta la fiancata Fabrizio Incazzato Forse Ho saputo anche Eh beh Sì Sai Mi va la macchina Le cose Grazie Crede per i cinque gift Dici Dai un bel evento Alla città Che ti ha cresciuto E tu torni a casa Con la macchina Rigata Dunque Le ipotesi più accreditate Non sono i ragazzi Quindi Sono Altre persone Però Bene Non ti preoccupare Cioè Lo sai Come è tratto la macchina Non mi interessa molto Cioè Se cercavano di ferirmi Con questa cosa Sì Effettivamente Penso che Te ne importa Una bella sega Che Tra la prossima volta Strappatemi anche la maglietta Che ci tengo tanto Fate queste cose anche A una maglietta Ci tieni anche Che ti era stata Sottratta Però Ah vabbè La regalata Fabri Fibra Ci tenevo sì Però Non penso Che sia certo Che sia stato L'assessore Cioè No 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 L'ho spiegato La dinamica Io non lo sapevo Scusa se ti faccio ripetere Scusa Scusa No 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 E che Sono arrivato Basta Sono arrivato Il primo giorno Ho messo la macchina In una zona Che avevo Che pensavo Appartenesse Agli ospiti Quindi al parcheggio Privato Egli ospiti In realtà Era il parcheggio Privato Di un'associazione Di Nicole Salvetti E l'ho messa E l'ho messa quindi Dietro A due macchine Che poi Non potevano più uscire E c'è stato Un signore Che voleva Chiamare il carattrezzi Stava lì bestemmiando Davanti alla mia macchina Ha chiamato i vigili Ha chiamato tutti Per farla spostare E poi apparsa Questa roba Magari non c'è Alcun collegamento Però chiaramente Il pensiero Ti ci va Ah voglia Sì anche perché La maggior parte delle volte La macchina viene rigata Proprio per Per queste Sì poi è un retaggio Degli anziani E comunque È di un'altra generazione Questa cosa Ok mi hai messo La macchina avanti Te la rigo Sì 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 Però magari Non è una prova A parte Sara Che se ti vuoi fumare In arghile Devi per forza Invitarmi Perché voglio fumare Anch'io L'ho fumato soltanto Una volta Che è stato bellissimo Seconda cosa Io una volta Un mio amico Ha parcheggiato Nella mia viuzza A Messina La macchina E se l'è ritrovata Perché ha parcheggiato Davanti a una Sara Cinesca Con dipinto Passo carrabile Ok Ok dipinto però Non era un vero passo carrabile Va bene Ha parcheggiato Sopra Alla Sara Cinesca Sombra di ossa Grandissimo sombra Grandissimo personaggio Sopra A questa cosa Si è ritrovato Il giorno dopo La macchina Educatamente spostata Di 10 metri Più in là Cioè un tipo Non so come ha fatto Ha sollevato La macchina E l'ha messa 10 metri Più in là Rispetto alla sua Sara Cinesca La macchina Era intatta Non si è capito Come però Come fai a spostare Una macchina Parcheggiata Di 10 metri Me lo spieghi Non è una domanda retorica Come sposteresti Una macchina Di 10 metri Si vede Non c'era Forse il freno a mano Tirato E l'hanno spostata Spingendola Ma scusa Poi non cade Perché era in salita Era 500 Questi ragazzi Ti rovineranno Prima o poi Grazie distruttore Grazie raviolo Non vuoi chiamare Nessun caso umano Nessun professionista Da stampazzo Non vuoi dare consigli Di merda Non vuoi fare nulla Stasera Perché sei in Verso il Giappone E quindi Vuoi una chiamata Più riscaldante No 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 Non sono verso il Giappone Ok Allora non fare Satoru Gojo Togli quella mano E spiegami meglio Un nosokura Vabbè Sì sì Non ci serve Dario Moccia Non ci serve Dario Moccia Ma la gente In Giappone Sempre in Giappone E per chi vieni I cat Che ho pagato Che da Dario Moccia E ora Io pare che l'ho inventato Io e tu Giappone Se io non voglio andare In Giappone Non me la nominare Dario Moccia Non me la nominare Perché io Vado in Giappone Perché mi piace il Giappone E lo sai Dico io Ma faccio pure più Dario Moccia Mi piace il Giappone A mia Non è che Io c'è andato A vedere A mia libreria Dietro qua Caccia io Icarimane Caccia io Omunculus Ed è Megimia Non è Megimia Dario Moccia Megimia Non ce n'è nessuno Nodemi Megimia Io sogno Sogra I due E come si chiama Chi tu dà Che non balla Nè ma C'ho dico Perché non balla Niente Non mi pare Abbia detto Niente di tutto ciò Comunque No Sono io Questo Grazie Flavio Grazie Rico Malen Vigisus Capo dell'astropuzzo Bello Grazie Bello Io invece spero Che abbia Una brutta sfortuna Domani mattina Alle 7 e un quarto Coroliri ha scritto Senegal Io però non so Perché L'ha scritto Questo sicuramente Non lo sa nessuno Magari sta giocando A Nazioni Città E cose Sì Ed è uscita La S Probabilmente Io ieri ho fatto Lasciamo a perdere Ho fatto una piccola imitazione Di Babidi Ma Non Non c'entra molto Adesso Guarda è la cosa Più Più curiosa Che tu potessi dirmi Purtroppo non posso chiederti Particolari A quanto pare Gioco famosissimo Quella è Ma entra Sara Vieni a fare un salto A salutare Scusa Dai dai Sara Tempo che entri Così lui Allarga le mani E benvenuti A una nuova puntata Di pensa alla cosa Spara la minchiata E la gente No perché tanto Sara Aggiunge un pezzo di Bibbia Alla sua vita Per Sara è tardi Quindi non può parlare molto E deve parlare piano Quindi mi sa che Può stare poco Se può avvenire No ma non penso Ah deve parlare piano Di solito sì L'idropuzzo Saraceno Chi ha scritto questa cosa? Gianni Marco Bindali Grazie Samu Grazie a Giacomo Per a Cotogna Grazie mille Comunque Gianmarco È tornato a casa Ha aperto la live Tempo qualche minuto È morto Mario Sturniolo Così a caso Perché si vuole divertire Sa dove può buttare la pietra Ma era il titolo della live? No 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 L'ha soltanto detto Ma proprio io Sono andato in live A controllare E stava già parlando d'altro Tantissime persone Tantissime persone A darmi le condoglianze Lui che stacca La chiamata Ma No 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 Ma Ma Grazie.